vediamo 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 tubo? ok ok tubo? allora su twitch siamo in live devo attaccare il padino non ci siamo sul tubo come non ci siamo sul tubo sicuro da aver messo la chiave giusta? eh si la posso riprendere allora un secondo ragazzi che qua si sta eh si si è quella è quella eh mi so che devo chiudere e riaprire ma la facciamo ancora niente? guarda allora la reimposta guarda la reimposta magari non funziona con la chiave non lo so che ti posso dire? se non parte non parte non ne posso far niente cambio la chiave è raro che succeda ma a volte è capo capitale allora mettiamola è raro che succede ma quando succede sempre in live mai nelle prove sono fatte un po' saputo per registrare ma è in live tutta merda e va a fanculo allora so stacco la un attimino qua stacca stacca allora e adesso più che altro dopo dobbiamo ricordarcene di tolere quella live su twitch si 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 comunque fullmoon è una delle ragazze che appunto seguo su twitch infatti ci ha fatto il ride è bocotalpa ciao ciao bocotalpa benvenuto ciao bocotalpa eh ragazzi se non mi parte youtube non lo so bravissimo bravissimo che è mollato emulare per venire da noi no scherzo scherzo oh ragazzi oggi su youtube non si va non so che dire io credo che sia un problema della pagina anzi già che ci sei convinci la gente eh ragazzi c'è quel penetro che mi si è aperto dai venite lì venite da loro loro sono meglio no sto scherzando è tranquillo allora ragazzi sono costato a fare così non c'è altra soluzione ehm cioè devo ricaricare la pagina io penso e infatti è l'unica penso che abbiamo avuto un problema sulla pagina di youtube però sempre così è sempre così oh ragazzi io niente non va non va al tubo cazzo allora chiudo sentiamola chissà se ho una terza se va sembra siano dei problemi eh senza sebra allora aspettiamo qualche secondino chiave streamer è impostata oh non va non va non va youtube cioè hai anche cambiato la chiave tutto quanto porro eppure nella live di stasera andava a youtube e vabbè c'è la grazia si appunto eh niente non stream a youtube non ho capito il motivo porco eh scusate raga purtroppo stiamo avendo problemi col tubo non ci stream ma sul tubo e non stiamo capendo il perché c'è ok ah quindi ok accidenti quindi la chiave è la stessa si forse ho capito aspetta forse ho capito non ho fatto una cosa che avevo dovuto fare porco siamo in live è vero? ehm si siamo in live allora chiudo qua guarda un po' guarda un po' 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 oggi non fa il tubo oggi non fa il tubo oggi ragazzi andiamo su facebook vediamo un po' se almeno facebook parte boi su facebook paresti andando eccolo ok dai ci siamo ragazzi niente oggi è andata così cazzo un po' cazzo vediamo qua si è arrivata la notifica ehm ok della maresca orco ecco la notifica della maresca esatto allora vediamo se riusciamo a minchia minchia questo azzeccamento del ritorno è veramente c'è allora ok ragazzi dai vediamo un po' dovremmo dovremmo esserci dovremmo esserci ragazzi benvenuti ciao massimo benvenuti ciao no angel ciao bruno benvenuti patrick ciao no angel ciao massimo è un po' tutti quelli che si stanno collegando in questo momento ragazzi benvenuti scusate il ritardo oggi è un po' di problemi tecnici dovuti sempre dal nostro multi streaming non so perché eh sì ragazzi purtroppo non siamo riusciti a partire col canale di youtube non lo so perché ci deve essere stato eh non so perché la chiama fece ma non fa eh ma magari c'è stato da parte di youtube una qualche problema ragazzi il problema tecnico di youtube stasera non fa al limite al limite provvederemo direttamente da twitch a riversare poi il video sul tubo quindi rimarrà sì infatti infatti registrato eh purtroppo non siamo riusciti ad andare invece su su twitch ragazzi sta funzionando bene quindi invito tutti coloro che ci seguono da youtube di trasferirsi su twitch chi è chi è chi è chi è che ha denoto bit chi sei grazie grazie papasi che ha fatto il tifo con tre bit grazie oh ciao pipasi benvenutissimo grazie mille per i bit grazie per i bit e niente invece per quello che riguarda facebook non ci sono problemi allora ragazzi possiamo iniziare possiamo iniziare grazie per la donazione di pipasi e possiamo ragazzi iniziare direttamente questa live aspettate che mi sposto anche la la finestra la metto un pochettino più giù perché non sta bene nulla ok molto bene e e metto qua qua perfetto dai così vediamo ok ok allora ragazzi continuiamo 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 allora vediamo un po' aspetta cosa hai scusato ok eh ok no vabbè se l'obs si era perso cazzolino ma perché si sta a cancellare tutto allora beh beh ok vai porco ok ok oh ora non toccare più nulla non giochiamo nulla vai gioca 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 giure ce l'abbiamo fatta va bene ragazzi dai alla benvenuti niente ancora anche a bruno che è arrivato e tutti riprendiamo la partita vediamo in che punto siamo arrivati ragazzi come al solito ci stavo prendendo a schiaffi perché appunto stai impazzendo per questa via che era smarrita allora ragazzi siamo a dieci decima puntata oggi ragazzi gradite le condivisioni no da youtube ma naturalmente da Twitch c'era aspetta aspetta non mi ricordo più nulla di dove era arrivato qui no aspetta ah ora ricordo ok ora ricordo tantissimo qua sei arrivato tu perché se tu e chiudi la live ehm si 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 praticamente era arrivato che c'era questa sfinge qua dove eh non la vedi al centro è bella grande la sfinge o al centro? eh se tg eh tira oh quella lì bella grande come fai non vederla e quindi praticamente il motivo è aprire la porta sul suo pezzo grazie Massimo grazie mille e per aprirla bisogna cercare due se non sbaglio due ingranaggi no non devi andare verso la porta devi andare verso salire scale e quindi salgo ne? si devi salire tantissimo eh tantissimo no da lì da lì da lì da lì da lì poi ad Egitto saliamo oh mi sei impazzito youtube oggi ma chissà che cazzo allora adesso devi eh slittare e poi saltare no ho detto slittare e poi saltare cioè slittare? e dovevi scendere senza saltare perché ci volavi e poi saltavi ah aspetta eh io aspetto è lei che muore Alessia benvenuta grazie anche della condivisione grazie mille allora qui mi metto qua ah devo slittare e poi salta porco ecco fatto oh bravo facilissimo vai lì vai lì lì avanti 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 vadi 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 eh eh ok siamo qua penso di sì ma se ragazzi youtube nulla eh sì purtroppo youtube non funziona no samuel abbiamo stasera problemi con youtube non so perché non ha preso non ha attaccato la live quindi siamo solo su twitch e su facebook non ci siamo sul tubo ragazzi esatto poi sul tubo comunque la caricheremo e da twitch poi la passeremo a youtube quindi la mettiamo nella playlist quindi non vi preoccupate sì sì infatti verrà esportato subito dopo però oggi dovete guardarci o da facebook o da twitch dove andiamo? eh davanti dovresti? 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 non lo so eh eh neanche io neanche io lo so perché appunto però boh non lo so eh secondo me no chi ha una presa o persa così corri sul muro e ce la fai e asco invece qua guarda ah ok eh eh sali su vai vadi 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 vedi sali su ora sull'altra colonna dietro di te no sull'altra colonna no vè eh quella lì dici? sì sì non lo vedi che c'è ai bordi porco ok grande Bocotalpa che è diventato un VIP su Twitch eh grazie Bocotalpa ti sei inviperato grazie grazie si è fatto inviperire si è fatto inviperire no da l'altra dell'altra dell' altrissima qua 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 qu qua 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 e la cosa pacman aspetta il vali i fai divali voglia salvaggio dove anno su dove guarda bene forse ancora su no forse hanno sul muro no no sul muro sul muro sul muro destra 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 gira la telecamera vedi sul muro che c'è la piglio non è una piccina grappo vabbè non è una pilomeno a grappo e ma non ci va non ci fa ci va e te dico da no mai che ci fa ce ne sono due apposta 1 1 più basso ci arriva ci arriva vado vari vari ma non è trovato che ci arrivava vado salti mai su sali ancora su sali ancora su e dove su 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 che grappa bocchino è ancora su porco a no forse si ancora su a no salta verso porco pipistrello porco la madre vecchia ladra chi è porco cazzo sei un porco sei e mi hai fatto scendere e sparalo e sparalo dove cazzo e cosa fa un porco e cos'era un pipistrello di fuoco che pezzo d'asino ragazzi ciao alessio benvenuto oltre al danno la beffa praticamente c'è stai due ore a capi allora aspetta quello fa la discesa a mare e poi va un po' anche il triangolo che il chiuso è la fai vai sali sali la baga era del tt batman da quel pipistre ma poi è venuto mi sei messo sopra una era perché gli avresti perché avresti avresti dovuto saltare subito salire e poi ucciderlo e sparagli no non da lì non che poi sembra che ci arrivi è sembra un osso oltre al porco eccolo vai porco ecco qua come non si vede nulla come non si vede nulla che senso bruno dice che è successo non si vede nulla eh vabbè eh oh bruce ti lasci gli occhiali in bagno non sono un problema aspetta che carino il pipistrello eh oh ma attenzione qua no 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 doveva andare dietro dietro di te sulla colonna dall'altra colonna eh ma l'altra colonna eh ma l'altra colonna porco si che ci arrivi se ti metti bene ci arrivi la madre via via no lo fa così questa va nel the best of roberto no the best of canale grazie grazie gabriele sondrio che hai condiviso grazie gabriele sondrio la 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 sempre l'altra colonna roberto ah ok però senza girarmi così vai ok ok adesso su su sempre su ora verso il muro tutto che si vede perfetto saluti a nonna all'acqua deve andare veloce uno poi due dove l'ho stato il pipistrello vai salta dietro di te 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 salta vai veloce sali su 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 ecco il pipistrello percorso voglio marino e che cazzo di buco marda con due no era l'altro tasso porca ma ne ho di non ne ho di muro di cosa usa la doppietta usa la doppietta vabbè prima usa il kit poi c'è la doppietta usa doppietta mondo a casa ti aspetta porco no ma la merda della madre vecchia ladra cazzo guarda pipistrello oggi non mi dare nervoso è già abbiamo youtube carotti marroni e barman si abboge nel fuoco vivivo è proprio paio vivo della morte deve andare batman porco allora vai e rapidissimo e stronzissimo e giustissimo allora vai qua dai salta vai qua poi veloce veloce salta dietro vai salta nulla non c'è niente infatti dall'altra dall'altra voglia marina riuscire il nostro eroe a ammazzere pipistrelli prima che impari il livello a memoria ma io penso di sì eh ma che mi sta a rompere i coi pensi di sì che impari il livello a memoria io pensi sì che l'ammassi c'è qualcuno qua 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 c'è sì c'è gente no vai 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 no no perchè perchè l'hai fatto io non lo so credo ci fosse un'altra colonna ancora no lo avevo già fatto i due ero talmente veloce che mi sembra averne fatta una invece ne ho fatto i due porco boia cosa hai fatto non lo so sono sceso qua sta bene vedi c'è anche una bella una bella piazza no dove siamo allora che devo fare tornare indietro porco la pazienza ci vuole Lara Croft eh c'è una pazienza del cazzo boia allora ci vuole la pazienza e non ci vuole per niente la fretta ma ascolta questa scala dove porta prendiamo dove ti porta il culo ah beh è possibile ora devi andare a sinistra qua si come sculetta vedi che si aggrappa aggrappa bocchino vai oh e ora guarda sotto eh vai 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 no vai 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 tutta a sinistra vai boia porca e poi lì le rotule ci salutano e vabbè io provo eh cazzo allora vai abbiamo letto qua su 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 tutto su qua su suissimo suissimo e poi c'è la salta via fatto eh no graziano era un po' stanco perché è ritornato a torino oggi ha viaggiato abbiamo fatto una live stasera con lui quindi c'è stata la live praticamente dei giochi per il mio computer su windows xp esatto una figata però stasera si è caricato presto si si dopo il viaggio appunto che è già tanto che abbia fatto la live figurati grazie massimo spiga grazie maximus vadi vadi salti salti vadi vadi bella roba vado vado boia schifoso ci sono aspetta qua dietro chi c'ho la corona d'ergo no 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 sul muro sul muro non è ancora una d'ergo vai vai eh e chi è che cazzo è successo minchia ragazzi quella vorrei vedere al rally per tutta la vita boia schifoso allora ma che cazzo è successo non so cosa è successo me la sono persa minchia non so cosa è successo veramente ho visto la lega stava facendo il balletto di san vittano ha scoperto gesù attaccato al muro che cazzo stava volando che cazzo era un volo a planare ragazzi sono venuto su twitch perchè mi ragava su facebook eh eh si ragazze venite su twitch oggi oggi è cosa ma perchè non ve ne venite su youtube perchè non funziona perchè non funziona youtube oggi porca putta lo youtube non va se youtube non va stava volando si praticamente è così però ve l'ho vista a volare non lo so che cazzo sta facendo il volo d'aquila porca lì gira gira questi bug assurdi che capitano nei giochi sono sempre uno più bello dell'altro via oh ah che poi robè tipo stasera stavo giocando a bubble bubble per commodore ok bubble bubble qua sono giusto vero? si no su sali su ah ecco perchè poco fa ha fatto san vitro eh eh esatto aspetta no sei troppo a sai che sei troppo verso lì un po' più a sinistra un po' più a sinistra qua? un po' più a sinistra esatto guarda il muro si ora no troppo a te ok ora dovresti farcela ok e devo correre per quello rompe il kaiser esatto 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 veloce che sotto arriveranno i pipistrieri addosso dietro di te dietro di te dietro di te vai veloce fucilati fucilati doppiettati allora ok malo di san vitto porco no ma merda porco boia marino e uno è morto eh che cazzo no porca miseria e che cazzo curati e curati che al certo aiuta che cazzo che cazzo porco ascolta non mi dare fastidio il gioco di merda eh ah mi moli la testa pipistrello cazzo bravi sinistra destra sinistra destra ma che sinistra destra ok porco pipistrello batte l'arena tu shinden vai a rompili i coglioni no cazzo cazzo diaa volo che tu batte l'arena tu shinden no cazzo ragazzi è veramente guarda cazzo io bu son deluso e batman son deluso dalla raio guarda questa nuova mi sta a rompere i coglioni scendi vai sali Non mi rompere i marroni l'arella Ho trovato un Leonardo dalle mie parti a 129 euro Secondo voi vale la spesa e aggiungerò alle mie console da esporre al bar Al povero pipistrello Ma c'è un pezzo di bastardo dentro Guarda questo pipistrello ha trovato la giornata sbagliato Ha trovato una persona sbagliata al momento sbagliato Tra tutti i giocatori che poteva trovare trova Roberto che è incazzato nero Nero o Youtube Esatto Mi funtano Youtube Ascolta ma come si può salvare in quel punto dove c'è il bat? No Cazzo che gioco E' un gioco per pc non c'è il save state Anzi oh c'è il salvataggio automatico Nel senso c'è il punto di controllo Trovo un punto di controllo e il problema è risolto Ce sono? Dovresti Vai 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 saliti saliti salga dal topo Console anni 80 ho anche un intellivision e un call con riparazione dalle parti di Robby Ah ok Fucilati Ok fermo Occhio sempre alle palle di fuoco Palle di merda Porco Che cazzo ho sparato a nonna? Porco Poglio Ammola mi cazzo Pipistrano notturno Ma vaffanculo Ok vai il rumore del mare Ma che ho sparato a zia Ma che cazzo fai? Tre passi indietro con tanti auguri Appenditi Appendala Sali Ti salga il gallo Ma veramente è morto E culo ragazzi Micchia ragazzi C'ho le mani Porco mondo Cazzo Cazzo tre passi indietro con tanti auguri Allora qua se devo prendere la colonna montante Così Guarda bene sotto di te se devi scivolare E che scivolo qua Qua cade a boia E così Devi scivolare appena E puoi saltare Ma sto scherzando? No Oh yeah Non di cagate Oh graffo Salta vai vai Dentro la titta Uno Due Tre Quattro e cinque tonone Cinque Uno E dove vado? Lì dove vado? Vai vai ti puoi aggrappare Ma sei sicuro? Guarda quello scivolo Sicurissimo No Ti aggrappi Che senso avrebbe allora Metterci le aste qui Scusa Quattro e cinque Porco Oh vedi che ti aggrappi Ora va a sinistra Vado? Vai vai Penso di sì Ok Ah devo guardar dietro Sì sì ok Oh ma certo il punto di controllo Già me lo può dare So stronzo Che è? Devi saltare lì Tu sei scemo Vedi che ci sono Vedi che ci sono gli aggrappi Deve che aggrapparti lì La grappa Dove? Vedi c'è di aggrapparti al grappino Davanti a te Vedi che c'è il murino Eh ho capito Seconda notte Con il salto do caccia Arrivo lì Sì che ci arrivo il salto do caccia Grande Simone Grazie Simone Grazie Simone Ma secondo te con il grappino Qua ce la faccio Se deve rifare la parte dei pivistrelli Roberto spegne tutto No no Roberto passa me il pad Allora che lo fa? Vai vai che ci arrivi Vai che ci arrivi Sì che ci arrivi Dici Dicco Vavi Ma per me tu stai dicendo Cazzate No vai tranquillo La giù di fronte dici Sì davanti Va Ho quel muretto là Bianco Sì Ma non è che devo andare a questi muretti qua no Io vado No 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 vai Porco La grappa Ok Ok Poi Ah se no molla un po' Sendici No devi scendere Scendi E aziona la leva Oh Ha dato il punto di controllo so stronzo Dovrebbe dartelo adesso Mamma mia ragazzi Tintintin Eccolo Eccolo fan cuore E mola? Che hai fatto? Mi ha aperto qualcosa Eeeh Boh Esplora Ah qui? Cosa c'è qui? Cazzate E vai entra Aspetta che io vado sempre di soppia Porco No No si è chiusa Ahahahah 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 Con il grappino fai tutto E' certo che ho fatto tutto Lo rapito Più di strano Guarda guarda E quindi? Eh i classici muri all'odangio Se andrà Come si è andrà Come si li deve evitare Ho capito Aaaaaah Eeeh Dovi saltare subito Quello si abbassa Eh ho capito Quello che tu vuoi dire E quindi come Come ci risalgo io su? Dalle palle di Pio? No Devi adesso Aspetta guarda giù No aspetta guarda Sotto di te Burro No ok No vai a destra Devi andare lì Ok Ok deve rifarlo Lo sa andrà? Sì sì Ok Punto di conto Non è possibile che io L'ansia se non sto giocando Eh quello è bello Allora aspetta Eeeh Ok vadi Aspetta Qua c'è la scala Aspetta eh Vengo il salto Vai Eccolo Se si può chiamare scala Vabbè scendiamo piano piano Dai Andiamo piano piano Così 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 Mi raccomando Allunga la gamba Che è importante Vabbè Poi Ancora Scendo Vai Chi è? Ok Se No Aspetta Ma qua non ci siamo già stati Eeeh Sì Nuovamente Si è tornato indietro Sono tornato indietro Sì E quindi? Devi rifare la strada Tu sei scemo No E qui dove fa Devi ritornare Devi ritornare su Tanti come sei entrato in questa stanza Mi sono reso conto che Sei appunto tornato indietro Porco Ah è facile Facile è facile Guarda Uno Due Ricarica il punto di controllo Fai prima Dici E dico Prima che parte un altro punto di controllo Altrimenti ti dovrai fare tutto davvero Carico Quale è il punto di controllo? Il 5 Aspetta Aspetta Questo è caricamento Caricamento Cioè praticamente Riparti da Prima dei pipistrelli Ma come si fa? No aspetta Mi sa che devi uscire E poi rientrare Ovviamente senza chiudere il gioco No esci Esci Si Gioca Riprendi Mica se mi metti i pipistrelli Mi cazza bestia Ok riparti da qua No Dove sta andando? Indietro Ok Quindi aspetta Ha aperto quella scala? Ma per No Ok no Dall'altra di nuovo Era giusto lì invece Ecco Esatto Bocotapa Si proprio Ma perché mi hai fatto andare qua Questa merda? Perché sei tornato indietro Devi fare il percorso Sacchete Ma io qua non sono andato prima però Si Si è andato prima Noni Ero Ero appeso in alto Non ero In basso Eri dall'altra parte infatti La devi rifare Perché Adesso stiamo andando avanti Perché ripercorrendo questa strada Guarda sei andato indietro Ma che amore sto asino? Eh perché salti sulla piattaforma Ma sulla piattaforma C'è il muro che ti schiaccia Devi saltare subito di nuovo veloce E veloce dove? Eh sulla sinistra Sul muro a sinistra Vedi che si può grappare Eh eh Ok No così non ce la farei mai Così non ce la farei mai No Devi saltare in avanti E poi risaltare subito a sinistra Sul muro A destra al limite No No a sinistra Ma non ce la fai No no Non c'è il tempo L'ho fatto io Non c'è il tempo No innanzitutto Ti sei mai saltaccato al muro E non devi fare così Ti devi Ecco Dove sei lì Devi saltare in avanti E poi subito saltare sul muro Il tempo ce l'hai Eh Ti è saltato troppo in avanti Hai beccato proprio l'angolino Dove non c'è il pavimento Sei saltato sulla capola Ma io qua Prima non c'ero qua Io ho perso No No L'hai fatto dall'altra Appunto Ma non è il punto Il punto di livello Cioè non è il punto In cui mi ha salvato prima Prima mi ha salvato Quando sono arrivato giù Ho tirato con la leva Doveva ripartire da lì Il checkpoint era quello Non era qua Ma la rottura di cazzo Di coglioni Oh Ok Ora 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 è un gran cazzo Devi fare così Devi saltare su quello E poi subito saltare a destra Destra dove? A destra Verso destra Devi saltare No adesso devi saltare E verso Verso le spalle E poi subito verso destra Esatto Sì 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 verso le sue spalle Sì Su 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 E cazzo Non so Poi c'è un altro pure Che cazzo Eh Dio santo No C'è la morte Eh la morte c'è uguale Adesso dovrei fare tutto indietro O semplicemente Fai il caricamento Però riparti dal Da prima del pipistrello Hai perso E' praticamente come se no Avessimo fatto neanche un progresso Boia schifoso Dio santo Non ti da un tempo Di un secondo maligno Cazzo Ho sentito Un magnum Mangiato E cazzo E gira TTC giri Stavolta ho sentito Uno spezza con KitKat Sì ma è una frazione Di secondo Oh vedi Qua devo fare Ora Devi saltare lì Poi verso le spalle E risaltare su E poi in alto Esatto Ah no no Ok Ecco Ti saranno piccato subito lì Da facebook Non si legge E' quello che scrivo Il tweet di facebook Sì che si vede Come no Sì che si vede I messaggi si vedono Sì 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 Si vedono No no è solo youtube ragazzi Non sta funzionando E basta Perché non siamo in live Su youtube Ti prego Non sbagliare questo salto E te cazzo Sempre davanti Oh Ora Ora Va a sinistra Va a sinistra Va a sinistra E Alle spalle Esatto You lose C'è punto di controllo Sì quello è L'hai perso Di Roberto Oh Adesso Sinistra Sinistra Sali su Perché Adesso Bisogna capire Perché ha fatto salire Questa cosa Adesso esplora qui Guarda bene qui Ecco Devi andare qua Punto di controllo A sinistra No A sinistra Qua dentro Si bisogna mandare qui Ecco Ecco Perché te cosa stavamo sbagliando Ormai c'è uscito il punto di controllo Associate che rompi Porco Hai attivato la trappola Che attivato E non vedi che c'è il quadrato Abbassato O forse è fatto apposta Porco Cazzo Esagerato Tu sei giapponese Io sono italiano Che cazzo Magari fossi giapponese Massimo Mamma mia Non ti piacerebbe vivere in Giappone Porco O anche andarci in vacanza Almeno O anche lavorare alla Capcom Non mi dispiacerebbe affatto Anzi Ai 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 Ti ha rubato il naso Ma cos'è sta cagata Cioè secondo lui io Cosa dovrei fare Bungie jumping Devi fare No aspetta Conosso un altro muletto Non mi tocca però E beh Non è che posso In un attimo Arrivare fino alla giunno Sì che puoi Ma chi so Dio No Aspetta Adesso non ci vedo come fa lui Corribbio della madonna Ti dovevi inchinare Come inchinare Sei una cazzo Una porta che sbarca No 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 Ci arrivi Ti devi inchinare Se ti inchini Non ti becca la trappola A parte Non ho capito questo gioco Come ti inchini Cerchio Spera Era cerchio Sì era cerchio Ma la trappola Scusami Se una porta che chiude così Come cazzo ti inchina una porta No C'era lo spazietto Nei muri Non so se l'hai notato Se ti inchini Non ti becca Vedete che tu sei giapponese Io veramente Sta cosa non le non Sono giapponese Cazzo Ok Ah tu dimmi dove cazzo hai visto lo spazietto di nonna Lo vedi lo spazietto di nonna A sinistra a destra Vedi Che c'è il rialzo Ah Quindi devo saltare E inchinare Devi saltare Esatto Perché altrimenti Cribbio Sei vivo Funziona Se non mi ero accorto A me era una teoria Ma fortunatamente funziona Stavo già vadendo Roberto sotto il case me Che verrà pronto a uccidermi Ma non è vero Perché ha fatto la rovesciata Eh perché quando cammini Fa la rovesciata Questa volta sto B Ma si è tirato Ha fatto Ha fatto Ma vabbè Aspetta Allora aspetta Devo fare così Qui se adesso io No Devi aspettare che si afferma Poi ti inchini Eh però c'è la fretta Perché Si premi subito B Fa la capriola Fa la schivata Ma ti senti quei muri di cazzo Che rampano le palle Madonna Si è lasciata la porta alle spalle Oh Oh No Mamma mia Grazie Punto di controllo Ora vado Sindhi a scale Qua Ah Ho un presentimento che ti crollasse sotto i piedi Ma qui Grazie al cerone successo Vado Gira la ruota Punzone Ah no la colonna La fretta è cattiva Consigliera comunale I solo quello Minchia ragazzi Calice e lama Sorvegliano l'eletta Vediamo un po' Chi indovina questa cheat Che è la cheat E' la citazione Vediamo un po' che se qualcuno la indovina Madonna ragazzi Ma quale che ce la fa Vedo tirare lì No Guardati intorno Allora è sceso l'appiglio Quindi aspetta Forse ti puoi aggrappare là sopra Dove? Su quella piramide Guarda in alto Guarda in alto Guarda in alto Eh su quella Non è che forse ti puoi aggrappare Ah aspetta Guarda il muro Vedi che ci sono le scale Le scale sono scese adesso No Non poi le scale Le scale attaccate al muro Il muro davanti a te Davanti Eh Ecco esatto Vedi Vedi A destra Ci sono quelle scale Sì Ecco Sali Guarda su Vedete Ci sono quei muretti Quindi Del senso Quei muretti Poi sulla scala E poi su E scendere Ah boh Tu sei matto Aspetta Com'era tutta la citazione Allora Cioè tu credi che da qua Lui ce la possa fare Sì sì Ah La citazione completa era Sotto l'antica Roslin Il santo graal aspetta Calice e lama Sorvegliano l'eletta Che addorna dopo Per dantisti incantati Riposa ai fini Sotto cieli stellati Bella roba Dai 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 Qualcuno la Bravissima Alessia Bravissima Il codice da vince Sì sì esatto Allora Brava Brava Ale Io anni fa Quando ero ancora piccolino Vabbè Quanti anni avevo 13 anni 14 Oh ma ero stata qua Vedi che sta scuoccando Sì sì Porco Scendi scendi Sì ero Era un piccolino Quando avevo giocato Il codice da vince L'avevo giocato tutto da solo E adesso Da solo no Mi ha aiutato che Sì destra Mi ha aiutato mia sorella Finirlo quel gioco Poi l'ho finito da solo Ragazzi qua ce l'ha Aspetta Eccolo Porco E quindi? Devi saltare subito No non vuol dire così No no Cosa stai facendo Aspetta Guarda bene dove stai saltando Perché altrimenti salta sul muro E non si aggrappa la scala E muori Ma io adesso volevo ritornare A riprendere la scala Ah aspetta Ok Ah guarda Vado lì Aspetta Posso andare? Cioè una delle cose più importanti Di questo gioco L'osservazione E purtroppo la stiamo alquanto Ah là vado lì No Sì vado vado Eh vada lì Sì perché No la madre Ciaffete È mora È bionda Ma c'è la scala Dove devi salire Ah c'è la scala C'è la scala C'è la scala Eh l'asma Vai 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 C'è la culo a mollo E mo? Perché si fa A destra Ah Porco No non va a destra Perché non va a destra? Eh non lo so Non è che Non è che forse non ci arrivi? Vai tutto su E così non va Ehm Forse non ho fatto lo sculettamento No? Io più sculettamento No Verso di lì non lo fa Verso di lì non lo fa No Verso di lì No Ehm Guarda bene Guarda bene Ecco vai Aspetta qui No Allora guarda ancora meglio Cioè guarda Guarda bene tutto intorno Cosa può fare Cosa può non fare Ce n'è anche Allora per ritornare lì Dovrebbe riprendere la scala Ma per riprenderla Eh ma scusa Era anche un principio logico Scusa eh Eh ma se la scala non ci arriva Roberto non vede l'ora che il gioco finisca Ma è così tutti i giochi Allora aspetta Si c'è la pazienza di un cricetto Allora aspetta un attimino qua No Cioè cazzo Cristo Questo cazzo di ca... Allora Aspetta Salto Eh ma non ci arriva Se l'hai fatto prima Non è che cambia Adesso cambia qualcosa Movimento sexy Un movimento sexy Cazzo dai Cazzo dai Minchia la fusione Delle 2330 Allora A parte il movimento sexy Di Lara Croft Ma Che faccio Boh L'appendo L'appendo la piano Che sono un attimo al momento Che sono un attimo al momento Ragazzi io bevo Cazzo guarda Tu mi dai un fastidio Mi dai con quel cazzo Di bip Di era condizionata Di tua nonna Allora Porto ladro La pazzia Eh lo so ragazzi Allora A parte il movimento sexy Cosa può fare sta Lara Allora qua non va Perché c'è la cosa Aspetta Non è che fa movimento sexy Lo posso ritrovare più in alto E fa un salto Così No 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 Me lo fa sempre uguale Cono senza movimento sexy Eh sì Per per Rocket League Roberto giocherebbe Altri 5 secondi E poi lo butta nel E' successo quel gioco Allora Adesso picc'altro Guarda qua in acqua Se c'è qualcosa Eh no ma scendere Non conviene Tanto è tutto Eh ma magari c'è qualcosa E che c'è? Eh non lo so Un buon passaggio E' bello E' bello riflessere l'acqua ragazzi Sì sì quello sì Eh sì bocco Un po' di caldo c'è Un caldo da madonna Che diverso Ascolta No ma come cazzo Se la sono Lì proprio non fa Ma io dico veramente Chi ha programmato Questo gioco Boh Eh rompi capo infatti Ha fatto apposta Eh bene male che tu dici rompi Che devi mangiarti la testa Ascolta non è che deve andare in punta Qua tramontana Spara alla punta Sparo alla punta Non fa di certe cose All'aspetto Uno sparo alla punta Uno sparo alla punta Un movimento sex Non quelle che le consumi Non quelle che le consumi E che cazzo consumo Questa non è uguale No queste sono illimitate Ah devo prendere questa No le altre Queste sono limitate Quelle no Queste sono illimitate Quali Quelle Le bianche La doppia pistola Perfetto No spara è inutile Comunque Che bel grattacapo Che bella rottura Dei coglioni Ma veramente Un bel grattacapessa Ascolta Come si spara Quella lucertola Premi L'analogico destro Ah bravo No 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 Non fa niente Quello comunque No spara invece All'ingranaggi Quali Destra Destra Quelli No Aspetta Ha cambiato il mirino Rimira Quelli Quelli scarabei No scendi No qua posso usare Il cosa Il cosa cosa Il cosa che cosa No aspetta no Mira invece Li scarabei Quelli 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 Vedi che cambia No no Il rampino Il rampino Tiralo Sempre il tasto Del rampino No Allora l'altro Porco Aspetta Però ha funzionato La tattica Bene No Forse è il tasto A No Mi sa che non è il tasto A Forse è il tasto X No 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 È il tasto Y Aspetta Ah si Si ok E' così Davvero E poi Eh vedi Tirati Tiri la luce Eh non sta facendo niente Però Quindi A che gli serve Per correre Eh non lo so Ma se interagisce Ci sarà un motivo Aspetta Sali sulla roca Sali lì sopra Aspetta Guarda bene Usa di nuovo La mira assistita Esatto Adesso Ora Tira No Ok molla 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 Rimetti la mira assistita Adesso Guarda gli ingranaggi Questi Aha Anche questo Si può tirare Eh appunto Per cui ho detto Guarda gli ingranaggi Vai spara Con il Esatto Ok No no Non quello L'ingranaggio Che senso Non il chiodo Non il chiodo Dell'ingranaggio Proprio l'ingranaggio Devi Ah ho capito Porco Oh anche lì Anche quello Anche qua Non è che quando arrivo sulla scala Lo fa qualcosa Mi sa che quando sei sulla scala Non te lo fa usare L'ingranaggio Brutto Scalole Eh No non lo fa usare Eh beh Ha le mani occupate No come fa Eh Vuoi vedere che intradisce Perché l'acqua Va abbassata Eh ma da lì Viene un po' male Abbassare l'acqua Vai Spingi No Porco Eh Guardi dove vai Che è vero Un po' difficile Infatti da lì Ah Che casotto Qua non posso salire Vero No Vabbè Tanto so che a breve Toccherà a me Quindi Tarragni Anzi Per te Sarà solo soddisfazione Guarda Il tipo Ascol Lo faccio io Così Allora No vabbè È un enigma Questo Non un discorso Di Eh ma Il casire Capirlo Perché Sì appunto Aspetta Mira in alto No non l'ingranaggio Ma proprio la scala Mira in alto sulla scala No non quella scala La scala dove ci sono ingranaggi Cioè quella specie di catena Esatto Esatto Mira Mira la catena No Troppo vicino Troppo vicino Più lontano Più lontano Più lontano Un altro po' Un altro po' Ok Ora mirala Mira mira Usa le pistole Mirala con le pistole Su 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 Ma va oltre Ok Vai Mira la catena E spara il lazzo Qua? Sì sì Ma qua non è una catena La torre di babele Quella quella No no Mira la catena Guarda Vai vai Eccolo Ascia avvicinati un po' E tirala No Nada È proprio bloccata È proprio bloccata Se non deve tirare Li serve perché deve Aspetta Mira invece i quattro pioli I quattro pioli E questo che è? No I giù Le piramidi Le cose Le punte E adesso le punte Le piramidi No Non quelle Non le catene Le punte Le quattro piramidi Queste puntine qua davanti Vedi che le puoi mirare Ah sì Usa l'ingranaggio Tirala Non è anche questa No neanche le palle Dai adesso posso Bisogna capire cosa No perché Bisogna capire cosa Bisogna spostare Secondo me Ascolta Lo vedi questo laccio qua Adesso lei sta portando La piramide A farla pipì Dai Andiamo Vieni piramide Andiamo a farla pipì Ecco C'è caduto Nel piscio gigante Cazzo della piramide Eh ma che cazzo Cioè Cos'è V240 V240 Un codice alfanumerico Sarà l'ultimo aggiornamento di Lara Prima di fallire Ascolta Guarda cosa faccio Boom Tira 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 Non tira Tira No Mira invece allo scarabbeo sotto Lo scarabbeo Senti che c'è quel piccolo scarabbeo Su quella piramide lì Mira a quello invece Eh cosa hai fatto Perché hai caricato Eh perché È un tipo Svedio No Non la becchi No Devi proprio mirarla E beccarla bene Niente Anche lo scarafaggio Si prende Oddio Anche noto Ah È un Ho capito Sì è un prodotto Per Ecco Esatto Tipo il CRC Dai Ah Questo è per ingranaggi È vero Ma allora Non è il problema Degli ingranaggi Bloccati È il fatto Che a lei Può servire A questo Per qualcosa Secondo me Allora Dalla scala Non riesce Arrivarci Oh Oh lì È l'unico posto Perché poi può andare qua di fronte Ma qua di fronte Però c'è l'acqua A meno che deve tirar giù l'acqua Ma l'acqua come la tira giù Manco con le palle Lo devo andare a guardare Se c'è qualcosa sotto E io dapprima E se dice Non se c'è qualcosa C'è l'acqua E ma Scendiamo Cazzo Tant'asso cominciare Mi fa incazzare Se la tieni troppo sott'acqua Sì Annega Dai Scendi Lì però Un oggetto c'è Scendi Scendi Vedete che c'è qualcosa lì Che è? Triangolo Ah un kit medico Ah buono Per cosa l'hanno messa la scala Se non porta a nulla No a dire il vero Quella serve per scendere Ma non per salire Per salire Bisogna trovare un altro metodo Che ancora abbiamo scoperto quale Questa roba No quella è muffa estetica Non è niente di Utile A parte movimento sexy Non è che Però vedi che lei Tenta di andare verso destra No lo fa anche se Lo fa anche se non c'è niente Lo fa a prescindere E non è perché non lo fa qua Che c'è la scala più lì Vedi scusa Lo fa anche lì movimento sexy Lo fai anche se sei in basso La scala movimento sexy No adesso vedi Non l'ha fatto Però Eh non l'ha fatto Perché è mirato dietro di lei Aspetta Vedi ora stai mirando a destra Nel suo movimento No non si aggrappa no Non si aggrappa Vero Eh è tentato già quattro volte Non si è aggrappato per niente No 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 Vedi no Non fa Non fa Inutile L'hanno fatto apposta Quel punto lì Cazzo Ma poi qua Se si potesse Forse ci sono Vai Simone Spara Oh ragazzi Dicici com'è qua Che è un casino da madonna Vabbè nel limite Poi passare a me la palla Sì quanto siamo A vedere se faccio qualcosa Se riesco a combinare qualcosa Divertiti Salire sulla scala E poi Vabbè mentre cambia Sì sulla scala Ah beh sì sì vai Tentalo tu No ma se è sulla scala Ok E spara il rampino Sullo scarabeo No quando è sulla scala Non può sparare Purtroppo no Allora opzioni Comande Opzioni No che è un pad No pad 2 Perfetto Adesso Porco Porco boia marino E mo so cazzi Tua Alessandro Lasci Si cambia le mutande Grazie mille Grazie Alessandro Dall'iscrizione a Facebook Benvenuto Benvenutissimo Porco Allora Scendi 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 Mamma mia Allora Allora Ma cazzo Le chiudere ste scarabele No No proprio non lo spostano Ovunque mi fa Ovunque mi fa Ovunque mi metta Non lo sposto di un millimetro La pietra va spostata Come si sposta la pietra ragazzi Cioè La pietra va spostata Casino Non posso Non posso neanche Uncinarla La pietra E' Inspostabile La pietra Sta a sudar La pietra Grazie a tutti. E' difficile però sull'altra parete perché non c'è niente su cui aggrapparsi. Aspetta eh. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po'. Saluto a Fabrizio Felici che si è collegato in questo momento su Facebook. Che te spari? Eccolo. No. Minchia ragazzi, questo pezzo è da panico. No, lì manco ci arriva. Uffa, ho sberato tasto. La rimaccia di Tomb Raider Anniversary. Allora, spara il rampino in alto, in cima la catena si arriva. E' più in cima di così, non... Dove, aspetta? Ah, oddio. Eccolo, guarda. Ha ragione. Aspetta. Però ha ragione, ha ragione. Sono quei rampini da prendere. Non so come cazzo si fa, però. Prende? Sa che non ci arriva. Sono troppo in alto. Dell'acqua non puoi fare nulla. Aspetta. Io non penso che tu debba sparare. No, forse sono... Aspetta, eh. Forse più indietro. Bruno. Cosa dice? Tornò subito, aspetta. Hai provato a rampicarti lassù. E come ti arramp... Bra... Oh! E a cazzo, vedi? Vedi? E quindi? Aspetta, eh. Che magari, forse, ha sbloccato qualche... Forse era la catena sbloccata. È sbloccato la catena? Ah, vai. Ah, ma si è richiuso. Eh sì, vuol dire che c'è un tempo. Bisogna vedere cosa fa quando si apre. Bisogna capir quello. Tu, qui, lo tiro. Nel frattempo, molla, 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 molla. Trova a salire. No! Eh, rientra subito, rientra subito. Allora. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Sì, ma il nesso. Sembra tipo una sicura. Eh, ma non ha senso, perché come lo molla si riapre. Cioè, si richiude. No, niente. Ah! Cazzo. Cazzo, ma veramente è tosto, ragazzi, eh. Eh, è possibile. Allora, Simone, potrebbero andare un determinato ordine. Eh, ma il fatto è che arrivo solamente in quello di coso. Ciao, Daniele. Ciao, benvenuto. Ciao, Daniele. Problemi di linea, Dani. Questo... Oh, non ci arrivo. No, abbiamo avuto premio col tubo oggi, non so perché. No, vedi, solo a quello ci arrivo, se mi metto bene. Vediamo un po' quello. No. Questo. No, niente, solo a quello arrivo. Oh, no, 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 no. Eh, ho capito. Ti fa saltare e arrampicarti. Qua ha più senso che si sposti. Cazzo, un bel enigma questo, eh. Porco. questo è un bel enigma cazzo si è attaccata la punta della piramide l'ho visto no bravissimo ok ah ok quindi Daniel ha risolto col temporale ma niente non ci arriva non ci arriva guarda quello che si verrebbe in mente di fare è ricaricare dal punto di controllo e fare tutto quel salto però ha ragione Simone hai detto che c'è un ordine magari in quella specie di eh ma come ho detto io arrivo solo ad alzare quello gli altri tre ma anche ci arrivo e questo è il problema allora il quadrato marrone non arriva alla colonna di fronte per arrampicarsi qual è il quadrato marrone? l'altro marrone è questo qua questo qua eh ma la che lì che c'è la punta a cono come fai? hmm se me c'è qualcos'altro che può tirare cazzo ascolta le facce di quelle no no è un dipinto perché poi tanto mi aggrapperei lì quella è una piglia dalla pietra l'alessio dice dalla pietra quadrata salta sul muro dietro di te per far scendere l'ingranaggio oh ma scusa a me perché non ha funzionato più porco cazzo a starci due ore qua ho capito hai capito minchia che casino ma ci fatta una sta due ore ah ok un po' sta poi invece per sbloccarlo ok e quindi una volta che l'hai bloccato vabbè adesso il resumo dovresti lasciare bloccato e adesso ah ecco ti ha aperto quello ehm ok quindi eh questo questo non c'era prima eh no che non c'era prima eh ah ecco dietro 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 ok sali ah ora si che ci arriva la scala lurida esatto oh porco indizio cioè così si andava a fare prima eh vabbè tu sei cibernetico e vivi nei paesi dell'est e non ce l'ho fatto eh vabbè ti ho detto continua a premere A e però ma si risolve ah l'aspetto vai 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 questo cosa fa non ne ho idea salta salta aspetta aspetta adesso si deve essere alzata quella ok ah forse dovevo oh cavolo aspetta ti devi ridiverti ti devi saltare verso verso dietro ok ok ci sono ci sono ci sono quindi è semplicemente rifare tutto con l'ambaradan si devi saltare devi rifare no in basso no troppo in basso ok il gioco grazie daniele grazie daniele di aprire qualcosa una volta che tu sblocchi un altro di quelli da qua vedi se vedi qualcosa da sbloccare no 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 capito da lì magari se sbloccavi qualcosa ti apriva un murettino per saltare male da lì più aprire quelli che sono in alto suga non ce la facevi prima capito quelli di fronte a te sarà sicuramente guarda esatto 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 guarda qua di fronte a vedere se cosa c'è no no destra destra alto ok aspetta niente è in diagonale in alto c'è quello là in alto no 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 diagonale diagonale quello di fronte no no sinistra 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 è lì più a destra quello lì quello bianco là questo no quello a destra in alto questo eh quello più su quel gancio là eh quello le appunto è effettivamente per arrivarci dovrei passarci da da qui e poi verso là ma questo ponticello qua ma come c'era quel ponticello là no più che altro come arrivo qua ti deve aprire qualcosa secondo me no devo abbassare su questa catena esatto esatto non è che ti devi riappendere no 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 ma dall'acqua non ti puoi appendere aspetta dalle colonne sì che ti puoi buttare no ma quella conna è bassa cioè da questa tu no da questa ti puoi buttare un po' più giù e dopo tiri giù l'altra quella che c'è giù la vedi questa è della tua sinistra quella lì questa è già tirata giù si è sicuro è sicurissimo altrimenti non sarebbe qua sotto vedi dove sarebbe sarebbe tutta in alto questa l'ho già tirata giù vedi allo stesso livello di quella mentre invece le altre sono in alto e allora qua non si vedono vedi quella è in alto e anche quella e allora devi andare abbiamo a trovare un modo per andare per andare in quella lì ma per andare in quella lì in quelle due porca miseria ok so come fare quel muretto so come fare si si quel muretto esatto bravo si si il muretto ahhh no no devo aspettare che salga ciao francesco benvenuto benvenuto ah troppo lento bella roba bella roba bella roba sali 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 no no non facci in tempo eh ho capito era perché dovevi aspetta aspetta eh no forse ci sono ci sei? ci sei? allora aspetta eh vai vai eeeh e no anche se fossi lì come ci arriverei? pur sempre un casino eeeh affam vai vai lo faccio da qui esatto dovrei arrivarci no no arrivi lì esatto ok e dali qui e dali qui e sali là oh e tre fate se fai questa ti sblocca l'altra di fronte sì perché so sbloccando questo dovrei arrivarci vai bravo ecco fatto bella roba adesso per questo non so se ci arrivo oh aspetta ah esatto ecco fatto ah ah fa magno è il casino ragazzi tutto e quattro vai adesso con sta cosa illumina ah devo attivare quella leva lì boh no dietro di te sì bravissima un complimentino a chi ha detto di dover aggrapparsi agli ingranaggi è vero è tutto nato lì credo che l'avesse detto bocco se non ricordo male bocco talpa non vuol dire non vuol dire fesseria eh un casotto comunque sempre a questo gioco dico bocco ok adesso di nuovo qui di nuovo qua vai bene di nuovo alla da lì alla e chiude adesso devo attivare questa adesso illumina tutto aia adesso funziona adesso guarda illumina tutto guarda che fa la uscela stang ah illumina tutto adesso apra la porta bello bello effetto ragazzi questa versione remastered è spettacolare è veramente spettacolare e se uno cade ma cazzo no sto per dire no sto per dire e se uno può si dimentica le chiavi di casa deve fare tutto sto casino per aprire la casa adesso che devi fare deve risale tutto si e ci vuole un attimo poi non dove sarei tutto se lo farei qui ecco fatto aia attento alla scimmia porco porca scimpanzee prego l'effetto con l'effetto la match pain tolte tremolo faccia a lui non me l'ha fatto morto 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 ah questo è il primo cazzo questo era il primo e ce n'è un altro ah l'ha detto vabbè dai diciamo che l'avano un po' intuito sia Alessio che Bocotalpa sì perché appunto la chiave era l'ingranaggi io ce l'ho andato vicino Alessio ve l'aveva detto in modo preciso sì 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 va bene certo vabbè ma si era capito comunque che appunto la chiave era appunto l'ingranaggi bisogna fare qualcosa lì bravi e grazie per il consiglio lascia i miei di francesco cabane ok siamo tornati qua siamo tornati qua benissimo ahia il centauro porco ahia quanto ti ha fatto eh ma non ti sei mi ha dato il 5 ma ti sei no diamo da qui che palle Alessia ben ritornata benvenuta che cattapunta che cosa c'è veramente eh è bello del remake bello sì ecco la giravolta e fare un'altra volta parca ahia che un'altra che ha fatto max pain boom oh a rallent l'hai si l'hai scorticato adesso a destra adesso se quella era la parte di sinistra minchia come sarà quella di destra non lo so non lo so non lo so neanche io infatti guarda meglio farla in fretta perché poi altrimenti oh cavolo si capiva non ce la facevi eh troppo lontano vero eh sì lì è stata un po' la fretta eh no devi un attimino guardare eh sono stato troppo convinto ok allora si alza si alza si alza è ok all'acqua adesso ah no c'è un'altra scala c'è un'altra scala esatto esatto si devi puoi salire mhm eh no ah ok mi ho sentiti mi ho visti uè uè Alex ciao benvenuto benvenuto Alex e morici malamente adesso aspetta un attimo perché ci sarebbe un appiglio qua beh penso che abbia una una logica uh aspetta vai un po' c'è qualcosa sopra la testa della sfinge si c'è una cosa che brilla eh eh ma cacchio ci arrivo non lo so ah beh aspetta eh aspetta eh aspetta eh presumo che con i gancetti là ti fai sì 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 devi saltare prenderlo esatto e poi dondolando verso sud ah eccolo c'è un ciondolo che cionda no però c'è un altro là secondo me è quello quello fatale questo ti permette di andare lì esatto però aspetta aspetta guarda guarda che c'è una che c'è una no no girate a sinistra a sinistra vedi che c'è una di quelle sì appunto lì è per andare avanti ma io voglio quell'oggetto parco che è pistole doppia mitraglietta ottimo cosa ci faceva una mitraglietta a kimbo cazzo sulla sulla testa di una sfinge non lo so è stata messa da qualcuno eh ecco e mo come scendo eh mo so cazzo ecco come scendo non ho spesso trattato no 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 devi riprenderlo dai no no non so se ci arrivo eh non so se ci arrivo eh ma vai ci arrivi no non ci arrivi ok non pare che lo miri ti fa fatale di blu no non lo sta mirando no no ascolta mira di fronte in basso eh dove c'era l'asta non c'era anche una cosa ehm no c'è il vuoto no ma aspetta ci deve essere un punto in cui aspettami sì sì lì c'era di no no lì eh stessa cosa oh porca la miseria eh non l'avevo considerato eh tu volevi la mitraglietta eh la mitraglietta infatti volevo vabbè volevo manco se fosse la mitraglietta se fosse un segreto ma cazzo se si può raggiungere non penso sia un segreto allora scopo o la va o la spacca bravo ok no aspetta eh penzola penzola eh penzola che ritorni lì dai dai vai vai penzola veloce eh penzola veloce oh esatto che spavento ora lì vai avanti ok ok ne è valsa la pena esatto cacchio se ne è valsa la pena occhio occhio vai tranzollo no perché eh per fare prima ho subito un pello di danni oh seconda entrata ragazzi yeee non chiederti cosa ci faceva la mitraglietta lì e' il moso cazzo ah bastardo è fregato cazzo le aste pure se ne escono no prima possiamo entrasse subito dopo invece no quindi ogni due credo due adesso uno la seconda no cazzo quindi è proprio il secondo dopo il secondo non è dopo la seconda apertura aspetta uno ed è ancora chiuso vai e' perché e' perché devo aspettare deve aspettare non devi farlo veloce e' lo so ma cavolo si richiude ecco perché ho tentato di saltare e' bisogna studiarsi la la questione allora e' un po' dopo eh no la tempistica è un po' diversa perché a volte aspetta uno no aspetta no non salta ecco si hai ragione vai oh ah fanbaglio ottimo che ha destra dietro cos'è c'era una leva no non mi pare no era il muro era il muro era il muro quando viene schiacciata fa rumore delle patatine un altro un altro la miseriacciola come un altro non lo so di prima no e' un altro vedi chiudi chiudi no e' inutile chiudere perchè non ci sono i triangoli che sono ancora giù eeeh qua come si scende no vabbè ma quello di premerlo ah la leva si ma quindi lo stesso ma è speculare ok premia la leva scusami perchè non premia la leva e' inutile premere la leva i triangoli sono ancora giù devi alzare bisogna alzare i triangoli e' così che funziona l'enigma e' subito uno no anzi e' subito due facciamo prima questo so sempre se sia giusto beh ma se sono arrivato sul si 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 lo so lo so non posso saltare ma che palle esci esci allora ma allora rolla eeeh non ti è aperto niente ah ok aaaah qua e' un po' diverso mhm qua e' alquanto diverso no indietro quindi no quelle queste eh no aspetta invece si perchè puoi da lì salti avanti ah e' vero no aspetta ma da qui non sale no non si arampicca proprio no e' allora mmm non ce l'hai più laggiù ah aspetta aspetta eh esatto si è qua si ma poi aspetta devo entrare un'altra cosa io perfetto è andata come speravo è indietro ok andata perfettamente come sperava benissimo poi ah dall'altra ok ah beh almeno una volta che si sa cosa fare e come fare è una sciocchezza mistero magari la metraglietta lanciata da un precedente esploratore mistero come fa una canzone perché non è mistero è mistero ricorruggieri cosa mi avete fatto ricordare e pensare che io me lo guardavo pure perché era interessante come serie perché era interessante no vabbè mistero lui intende la canzone non intende il ah il programma no appunto eh ma appunto mi ha fatto anche ricordare la serie tv che c'è che facciamo ricorruggieri che facciamo sempre ricorruggieri mistero infatti sta dicendo che era interessante quel programma però appunto poi è andato come è andato purtroppo l'hanno rovinato è vero cazzo ci avevamo messo aspetta che era ras the gun eh sì mi sembra che sì che minchia ci stava a fare non lo che minchia ci sta a fare non lo so perché sinceramente non lo so ma chi è aspetta sì 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 devo fare come ho fatto prima quindi no cioè te ne sei andata in quell'angolo te ne sei andata aspetta ci arriva no mi sa che non ci arriva però se sei bravo sì sali su sali su sali su aspetta 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 no non ci arriverà mi sa che non faccio in tempo sì che ce la fai fatta apposta fatta apposta sono sinistra sali 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 ragazzi ce la fai ragazzi ce la fai ragazzi ce la fai ragazzi ce la no non ce la faccio te l'ho detto aspetta eh non ci ritenti invece nell'altro modo quindi dietro eh da qui ce la fai allora no non ce la faccio è troppo in alto sicuro troppo in alto troppo in alto non lo so eh hai ragione eh papapapapa vediamo un po' se qua c'è qualcosa un kit un altro kit di pistole le liserie di lunga vita ehi esagerato cazzo cazzo uno qua che trova pistole un santo graal un santo griller un santo graal sotto l'antica rosa di santo graal aspetta 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 un attimo ritentiamo dall'altra parte chiediamo un po' no non mi pare di arrivarci ma lì ci aspettiamo un po' qui no non c'è niente 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 di niente non manca se salissi in alto in alto in alto proprio non ci arriverebbe guarda dove è partita la live su youtube ma io no no dicevo ah prima la notifica non mi è arrivata quindi non credo no no non è partita ah non è partito grazie bru ciao ci vediamo presto ciao bruno buona nottissima alla prossima live allora questo è la chiave questo perché devo abbassare questo qui vai eh ma non penso che ci arrivi no mi sa che è troppo lontana no no vedi c'è troppo no non ci arriva aspetta eh forse è il primo che avevi ah tralasciato l'ha da fare invece dice alessio eh vabbè perché pensavo fosse speculare invece come sono sceso mi sono accorto che non non lo era per niente infatti se avessi fatto quello per primo mi sarebbe stato alquanto vantaggioso eh a saperlo cavolo era qua ma aspetta eh che vuoi fare ok trovate la soluzione no dai perché non non si era che mi ha spostato eh perché forse ho capito cosa vuoi fare ce la facevi bravo sì sì perché se sali e voli poi andava a sinistra e non di nuovo a sinistra sì 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 è giusto è giusto dai è quella è quella è chiaro è quella è quella ok sì infatti il terreno ho trovato la soluzione ecco adesso è che è che mi ha fregato la piattaforma che si è spostata altrimenti ce l'avrei fatta vai dietro no aspetto che prima si attacchi completamente vai fatto sì bene sali vai adesso aspetta eh devi tirare quello e poi devi essere bravo nel salire vai aia ma se che cazzino cioè non so se se saltano male tu perché io credo che fosse quella la cosa era logica ma infatti è quella la cosa solo che forse magari se saltano un po' prima devi saltare più in punta eh ma è difficile saltare giusto perché ti sposta la piattaforma eh ma ho paura che si perché non ho un'altra logica è quella perché poi da lì è giusto è giusto così appunto mi sa che ho sbagliato io sì no no non credo che ci sia però è difficile è difficile spostarsi con la piattaforma che si muove perché come ti muovi dritto ti sposta verso destra oddio è lontana però eh attenzione è lontana aspetta no vedi che ci arrivo ah ok no ti ho detto ci arrivo ma è difficile saltare perché come davanti ti sposta verso destra se ti attacca al muro perdi il salto ahiai ahiai eh ok dai riprovo uè luca oh finalmente sì siamo ancora qua siamo ancora qua ce l'ho fatta affan bagno sali sali no 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 vai no no è giusto devi aspettare oh no aspetta forse ora mi hai avuto un dubbio aspetta eh aspetta devi fare tutto a capo eeeh no 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 dovrebbe arrivarci dovrebbe 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 no le fai tutto a capo l'amor di dio o no sali un dubbio più a sinistra magari adesso è sul ponte tanto non si chiude del tutto esatto ma ormai si è riaperto aspetta eh passiamo per andare laggiù ah bella roba do di fronte sì sì appunto mi sto mettendo bene ecco fatto ho raggiunto anche il quarto porco listo e siamo ancora qua siamo ancora qua eh già eh già tutto e quattro fino al mondo ma l'affanbago oggi la nera ci fa da da dj ci mette le canzoni ad hoc lo so devo attivare la leva lo so non rompere i marones oh ora devo salire su attivare il ponti bravo le sali se sali magari bravo le sali le sali sta diventando una trottola sta diventando una trottolona c'è un oggetto lì sì sì e come ci arrivo facile punto hit eh vabbè dalle da quelle pertiche lì no non c'erò per niente dalle pertiche lì aspetta perché no c'è un modo per salire qua sopra no mi sembra l'unico modo per arrivarci anche i presarii devo farlo da qui però altro? no ok no destra sì 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 no appunto era per se c'era altri appigli aspetta aspetta e invece si aggrappa sì si aggrappa sì era sospetto l'ho fatto che qua si potesse aggrappare dai era era fattibilissimo segreto yeah il segreto di Twin Peaks se si trovano tutti i segreti lara sarà nuda yeee eh vabbè orco no ma l'hanno fatto comunque sì sì l'hanno fatto l'hanno fatto l'hanno fatto l'hanno fatto dell'ara crofta praticamente no era forse quello per pc e p non era nuda però era in tipo in in intimo cioè praticamente il costume in intimo vada 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 adesso tutti quanti è sconinciata qual era io solo il gioco aspetta che non ho sentito no adesso è solo per scopo Coscientifico minerale Non è per niente di Sì poi vabbè Ci sono veramente quelli Assillatissimi Che hanno fatto proprio le mod Che all'area è completamente nuda Ma vabbè Quale è proprio esagerazione Dai Eccole Ora posso attivare la leva Finalmente E andiamo a pilare il secondo Hank Oh Esprevivamente cazzo Che il terzo schion Sia lì dentro Bella roba Vediamo il gioco dei riflessi Visto Adesso mi apre l'aperta Porte aperte all'arena Eccola No che tutte le volte Se apre la porta Ne scendi giù Tu è una cosa Una cosa incredibile Minchia L'ubriaco Praticamente Cioè Vuoi stare Perché Per fare prima Faccio prima L'acqua Ah vero Mi sono tutto Fara d'angelo E vabbè Vedi Lì mi sono fatte Tutte le scale Poi le pertiche Tutto quanto Invece da qui Vedi Un tuffo Un paio di arrampiccate No Luca La metteremo Come playlist Da twitch La sposteremo La live Quindi Non sapevo Cazzo che c'eri Bastardo Cazzo che palle Morto Fa cagare Oggi ci sono le prime tecnici Su youtube C'è oggi Stasera Perché Questo pomeriggio Abbiamo fatto una live Un grazia E ha funzionato Quindi Stasera Ha avuto difficoltà Ad agganciare Live youtube Quindi L'abbiamo fatta Quindi siamo ora Su twitch E su facebook Ma non siamo sul tubo Però sul tubo La metteremo In quanto Fa parte Della playlist Da Della decima puntata Di oggi Quindi Le trovate tutte Le puntate E metteremo Anche questa Piccione Aspetta Piccione Il tuffa d'angelo Cazzo che si butta Cazzo Sono due Mamma mia Poi ci tirano anche Le palle di fuoco Che si fa Mamma mia Bravo 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 Fatto Aspetta Com'era per ricaricare Ah Il triangolo Mi sa Vabbè Usa E l'altra Si E usa Come ci sarà Qua dentro La sfera Questa Questa palla Mamma mia Cricetti E poverini Dei schiacciare Cazzi Loro che No Aspetta No Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua No Mamma mia Mamma mia Boom 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 Vai 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 Vieni qua Cazzo altro che giocare a bocce Vai 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 No Devo muovere la piano Mi sa Guarda I rettili che ci sono I rattili I rattili I rettili rattili No Ci sono questi sorocini Sorcini Sorcini Sorcioni Cazzo Sono sorcini Sono fan di lato a zero Cazzo Sono grandi quanto Un piede di Shaquille O'Neal Aspetta qua cosa c'è? Ah niente Solo un muro Se fosse un passaggio dietro Oh no Quelli sono produttori Non sono Oh la mia testa Oh la mia testa Se ti schiaccio I rettili c'erano prima a me I pipistrelli Sì Perché poi non sono rettili Ma Sì i pipistrelli sono dei volatili Sono volatili I rettili sono Il coccodrillo La lucertola Il serpente Il dinosauro No Non so se il dinosauro Si suppone che appartengono alla Cioè perlomeno Molti di loro appartengono appunto Alla Famiglia dei rettili L'iguana Il gecko Esatto Cos'è? Munizze Ah ma sono pieno Sorcini di Renattina Vedi? Daniele è come li diamo Il do Parte Gran amante di musica Daniele Bella roba Ah no Ok Mamma mia l'hai salvata Sta affiando all'acqua Piliati la vita Eeeh Ah mi sa che è stato inutile A tenerla allora Perché? Deva proprio cadere in acqua Adesso mi dovrei buttare Non so se buttare anche al mare Massi in acqua Beh il massi in sta a fa' nulla Vabbè Vai Facciamo una cosa più intelligente Salvo Lei mi tra questo salvataggio Poi se ne carica un altro Cioè se salvare un altro dopo Ciaffete Eh mi devo tuffare Non c'è altrimenti Spero non sbagliare Ciaffete Ciaffete Figo il tuffo d'angelo Il pinguino è un uccello Ma vai Il pinguino Eh È sempre risappunto Che i pinguini sono Praticamente gli uccelli Che non volano Un uccello che non vola Anche perché c'è una bella mole Eh eh Oltre a quello Ma oltre alla mole Ha le ali piccole Un pinguin Eh Mi sa che devo andare sotto I pinguini sono mammiferi Certo Certo Beh Eh ma quanto sotto Eh cavolo Già non ho così Già non ho abbastanza ossigeno Aspetta forse devo andare qui Vabbè no Aspetta prima Risalgo Aspetta C'era qualcosa Vabbè Vedo dopo Minchia Per il rotto della cuffia Il rotto della cuffia Chirotteri Non roditori Che so Che so Chirotteri No Non è qui Il topo Il topo è un chirottoro Boh Un chirottoro San Pellegrino Vai 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 Mamma mia Eh io devo andare sotto E cercare Trovere un modo Per abbassare l'acqua Ma è un casino Brava Alessio Io non lo so Cioè il topo E la famiglia del chirotto Non lo sapevo Questa è mancavo Ah i chirottori Sono i pipistrelli Ah ok Ah La famiglia dei chirotteri E che c'è Sì vabbè Diciamo che la gente Li scambia per topi volanti Eh vabbè Vabbè ma non sono I certi roditori No Roditore no Ah Trovato il modo Si sta Abbassa l'acqua Abbassa l'acqua Minchia lungo sto livello eh Eh ragazzi Stavidei sono molto belli Benvenuti a Super Quark Esatto Ragazzi oggi puntata di La mia palla Puntata zoologica Puntata zoologica Mi sa quasi due ore Eh il traguardo Non l'abbiamo fatto Però cavolo Ne manca ancora È di gioco Intendo Eh vabbè Salta Salta subito L'ho premuto Il tasto di salto Al limite Giochiamo Fino a due ore Poi Tra un po' Salviamo Vadi vadi Dall'altra Mi sa di sì Eh Ormai l'area è come beautiful Dura dura No Aia No da questa proprio Non c'è Non c'è Forse sì No non c'è Eh allora No devo proprio andare da quella Piedone lo sbirro Salto salto Bello Daniele ha messo una Ha messo un bel pipistrello Sì anche prima Alessia ne aveva messo parecchi Alessia? Alessio Sì sì Ah Alessia No Alessia Anche Alessia Eh perché qua abbiamo Alessio Alessia C'è un po' di confusione di nomi Ehm Dove devo andare? Ah L'ho visto L'ho visto Porco Eh bravo Dietro Dietro Non sinistra È difficile far saltare all'indietro Perché come premo giù Perché come premo giù Poi se premo sinistra È un casino Far saltare all'indietro Vedi qua va verso sinistra Ma no Io non volevo Sinistra Cazzo 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 Il terzo tipistrello Ok perfetto Perfetto Eh ragazzi Cosa C'è un gioco E' un gioco Di nuovo E' perso Un gioco di nome Perché si è arrivata Alessia Che nel frattempo Alessio Era insieme all'altro Alessio Che sono due Si parlava di pistrelli Quindi Alessia Ha messo il terzo tipistrello E quindi c'è un gioco di pistrelli Però c'è stato anche il pistole Di Daniele E quindi abbiamo fatto Battere la tua Schindel Vai Torna indietro Con la capriola 100 euro A chi mi traduce Quello che ha appena detto Roberto Eh vabbè Quella è un Devi capire Il nesso logico Della trama Ah ok L'ha da attivare Ok Eeeh Eeeh Che sta a fare E' che infatti C'è anche Alessio Moretti Esatto Quindi ecco Quindi Minchia ragazzi C'è state mettendo Un Un'amalgamata Di Alessi C'è Alessio Se andate a guardare la chat C'è Alessio Che risponde all'Alessio A chi è tra l'altro Saluta Alessio Che interviene L'altro Alessio ridendo Quindi insomma E' tutto un gioco di Alessio In più Luca Saluta Alessio Insomma Qua è tutto un No Cazzo Si chiude Chi? Ma chi è che si chiude? Che palle Adesso deve farmi tutto il giro Che rottura di coglioni Ragazzi La vita è questa Comunque ragazzi Troppi Alessi Mettetevi dei nickname Così vi distinguete Ovviamente Mettete lo stesso nickname Così E praticamente Non cambia niente Ti mettono tutti Alessio Bat Col pipistrello Disegna Alessio Bat Alessia Bat Occhio qua Vai No questo l'ho capito Ma il casino è tenere giù Quello Quello Aia Aia Aspetta un attimo Ma queste figure Aia Esatto Aia Fermo Fermi tutti Mi mette l'uguale A seconda del gioco di prestigio Bravo Esatto Eccolo Levetta Anche io prima A questo L'ho proprio saltato Adesso Riapre l'acqua No aspetta però Non so se aiuta Non so In effetti Non ho più Palida idea Se sia d'aiuto L'acqua Che A basso Il tuo soprannome Non è il tuo cognome Luca Perché pensavo fosse il tuo cognome Basso Perché Ah I cognomi ce ne sono Di tutti i tipi Quindi Non c'è da meravigliare E invece io so Rue Un cognome tipico sardo Proprio Ma io so Rue E un tuo nome di fortuna E cazzo nome di fortuna E cos'è Vabbè Cazzo io un solo Dai A livello di cognome No Ha un significato Si ma non è un cognome Però dai Quello si E viva gli alessi Ecco Solo che Mi attiva la porta Che è sott'acqua Cazzo Devo anche fare in tempo Ma un po' Non so come fare in tempo Chiuso un cancello Arriva un Yong Sul Forse ora ci arrivo No Maffambagno Dovevo scendere Ah Però in effetti Adesso con l'acqua alzata Ah ecco Lui è Alex Fia Ma qui su Facebook Non ho il Nick Ok Vabbè però Se Mario entrassi da Youtube O da Twitch Potresti chattare Con quel Con quel Pseudonimo Mh mh C'è per essere che ho visto persone Che praticamente Su Facebook Hanno Usano Particamente Il nickname Sì Il soprannome Invece su Youtube Usano nome e cognome veri Eh vabbè Lo capisco perché fanno al contrario Eh lo so Tranne il Gigi D'Alessio Beh ma Facebook è più rischioso A livello di pseudonimo A livello di pseudonimo Capito Nel nome del profilo Dico Il nome del profilo In realtà ci va il nome e il cognome Alcuni profili Sono stati bloccati O segnalati Proprio perché hanno utilizzato Dei nomi falsi No non ci provare Uttati giù Uttati Uttati C'è ne giù Su Youtube Non ci hai trovato Sì guarda Guarda La vede con la scrittura sotto Scorrevole Lì scriviamo tutti i nomi dei canali Guarda Su Twitch Siamo Gameplay Retro World Tutto attaccato E scritto in quel modo Su Instagram Siamo Gameplay Retro World Tutto in minuscolo E poi c'è anche Youtube Su Sinistra Destra Quindi basta che ci cerchi Allora Su Sinistra Sì sì Sinistra Destra No Mira Mira Quello Ah era già a destra Cinti Oh E questo giù Ecco fatto E come te lo ricordavi Eh magia Vabbè C'erano Erano sott'acqua Oh E' una rialzadina C'è Perché tutto sto casino Per poi C'è No aspetta No oggi no Alessi Abbiamo problemi Oggi Oggi non siamo Online su Youtube Ma è una È un È un caso eccezionale Perché c'è un problema Tecnico Abbiamo avuto un problema Di connessione Quindi siamo Oggi siamo Oggi Stasera In questa live Siamo su Facebook E su Twitch Ma non ci siamo Sul tubo Domani Spero che non ci siano Problemi Ci aspetta Ah ok Quindi Serie Alghero Alessio Allora Allora Stasera Alghero Vieni Vieni a salutarci Domenica prossima Che siamo Sabato E domenica Che siamo Alla Al Sassari Cosplay Al Sassari Cosplay Alla promocamera Di Sassari No Promocamera Ecco come si chiama Non mi viene mai Perché portiamo Tutta Tutta una bella Poi quest'anno Ragazzi Abbiamo un cast Eccezionale Perché portano Di tutto Veramente Un retro gaming Favoloso Portiamo Tante macchine Dal Commodore All'M6X All'Atari Guardate Chi più ne ha Più ne metta Veramente Una bella Occasione Sì Sarà una sorta Di praticamente Coleco Commodore In television Atari MSX Anche poi Si parte anche Dalle console Un po' più nuove Quindi tipo NES Super Nintendo Alessia Tu che sei appassionata Di videogiochi Cerca di esserci Anche tu Ci fa piacere Così conosci anche La nostra ciurma Di matti Bella al che Ci sono stata A poco Eh vedi Alessia Beh Alessia Di Cagliari Quindi magari Può fare una scappata Su Su A Nord Sardegna Dai Bella roba ragazzi Vi ricordo Chi è sardo Chi ha piacere Sabato E domenica Prossima La promocamera Di Sassari Ci sarà questa Non erano Tre i giorni Venerdì Credo che noi Ci saremo Giusto per portare Le macchine Ma non Non credo che Ah No vabbè Vabbè no A portare le macchine Basta la mattina Credo Per tutto il resto C'è la sera Io personalmente Ci sarò Tutto sabato Tutta domenica Questo è sicuro Poi non so Se qualcuno Andrà di venerdì Non lo so Però Chi ha possibilità Vega Così Ci salutiamo E allo stesso E allo stesso tempo Vedete anche Una bella manifestazione Ripeto Col gruppo Di Retro Game Sardegna Sardegna Che sono Praticamente I nostri partner Perché Collaboriamo In entrambe In entrambe Le cose Posso capire Alessio Ero passata Laushan Ah bene 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 Ecco Quindi sabato Vieni Vieni La promocamera E fai bingo No Che poi Non ci siamo Solo noi Ci sono Anche Ci sono Molte altre persone Ci sono Poi tra l'altro Sono due giornate Particolari Perché Vengono Parecchia Gente Ci sono Vabbè C'è il cosplay No Che è tutta Quanta La parte Legata Sì Alle varie Alle varie Maschere Alle varie Ai vari Personaggi Di cui ci si Traveste Io sono Io sono Travestito Da Roberto Quindi sono io E basta Io invece Sono travestito Da un giorno Da una persona Un altro giorno Da un'altra persona Ancora Il terzo giorno Boh Vabbè Però Importante Che ci siamo Alcone Hai finito I tre Lo sciacquono Eh Il gioco Non sono io Devo capire Cosa cacchio Devo fare Un casino Si si Cerca di esserci Alessio Se eri Alghiero Sei vicino Insomma Dai Io Io Lo invito Lo mando A tutti i sardi L'ho mandato Alessia Anche se Alessia È lontana Magari Riesce A venire Un giorno Due giorni E Seguirlo Sicuramente C'è anche Bruno Ci sono insomma Molte delle persone Che si collegano Verrà Sicuramente Massimo Spiga E poi ci sono Anche diversi Collaboratori Diretti In Sardegna Quindi Ci ho provato Ma niente C'è Massimo Serpillo C'è Andrea Sole C'è Francesco Carcaggio Insomma Molti moderatori Anche del gruppo Insomma Quindi Troverete Parecchia gente Troverete Parecchie persone Ci alterneremo Perché magari Giustamente Cerchiamo un po' Però Ripartito con la cuore Alzata Sì Oltretutto Poi siccome Porteremo Un sacco Di macchine Eh Ci sarà anche Una bella esposizione Sì C'è una bella Esposizione Giocabile Quindi uno Spossedere Gioca Sì esatto E' proprio Questo è il bello Che tutte le console Che verranno portate Saranno interagibili Ovvero che Tu fai lì E le provi Le giochi Sì 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 Le giochi Le giochi Fatti è bello Di rivivere Gli anni 80 Anni 90 In un paio di giorni E' vero E' vero Sotto quel punto di vista Ragazzi Una forse Delle manifestazioni Più carine Al momento che Che sono Insomma Che nella nostra isola Stiamo portando Poi spero che Di avere occasione In futuro Anche voi Che siete Gli altri Che non sono sardi Che sono Di altre regioni Che possano Direttamente Magari un giorno Venire a trovarci Perché no Approfittando Di una gita Di una possibilità Io pochi anni fa Sono stato al Vico Retro In Toscana Pisa E devo dire Che è stata Una bella manifestazione Ho conosciuto Anche molta gente Di gruppi Anche di Retro gaming Che fanno fiere Insomma E' stata una bella cosa E' stata una bella esperienza Quindi quando si può Ogni tanto Partecipare a delle occasioni Può essere Può essere divertente E' anche istruttivo E' anche possibilità Di conoscere Anche gente nuova Quindi è E' una cosa bella Perché poi dal virtuale La persona la conosci fisicamente Gli stringi la mano Hai modo di berti un caffè insieme Insomma E' una cosa più carina E' sicuramente Molto bello Eh sì E' quella che punto siamo Bella domanda Sto cercando di capirci qualcosa Ma è difficile Allora ho capito A che serve Quel mattone Bene o male Per il ballo Ma Non è sufficiente Per l'obiettivo Che a cui devo Ottenere Infatti in modo di aggrapparsi Non ce n'è da nessuna parte Quindi l'unica è di nuovo Ritirare la leva Ma poi c'è un mondo sotto Pazzesco Aspetta Se ritengo di tirare questa Fa? No Proprio è l'unica E' tirare Proprio Come ho detto prima Luca Tirare proprio lo sciacquone Dai tenta l'ultima Poi al limite Salviamo E' già l'una Eh Poi vorrei vedere a te Domenica prossima Eh vabbè Dai c'è anche Graziano Tiro l'euro Tiriamo lo sciacquone Beh Domenica prossima Saremo Innanzitutto No domenica prossima Non faremo No no Ragazzi Domenica Ecco Approfitto adesso Bravo Me l'hai ricordato Ragazzi Scusa Settimana prossima Né sabato Né domenica Ci saranno live Perché saremo impegnati Con questa fiera sarda Eh perché torneremo Praticamente Verso l'ora della live Cazzo ma saremo Strati No no Saremo Strati Saremo morti Però faremo delle live Durante la giornata Quindi sull'esposizione Quindi dai Ben o male Già Già Sì Quello sì Porteremo comunque Delle cose belle Da far vedere Quindi saranno comunque Giornate istruttive O forse devo arrivarci Senza tirare sull'acqua E che ne so Sarà un po' difficile Ma ci tento Quindi mi sa che Lara Prende una domenica Di riposo E Li serve Li serve Li serve a Lara Li serve Saluto Rob Debs Rob Debs Che lo vedo in linea Ciao Rob Grazie di Comunque Per tutte le bestime Che ci ha fatto tirare Cosa No appunto Per tutte le bestime Che ci ha fatto tirare Lara Ah no Io parlavo di Rob Debs Che era in linea Stavo salutare Che mi ha fatto I bestime Rob Debs No Ho visto in linea Ho salutato E magari scopri Boh Che è qualcosa Allora No Non devo tirare la leva Stavolta Anche se è un casino Ma Che gran casiotolo Questo Come farò a Tegliare Alessia Eh Luca Alessia È fidanzatissima Quindi devi un attimino Alessia è una grande appassionata Di videogame Di videogiochi Di avventure Di tanti altri titoli Lara rimarrà in meditazione Ok Di domenica per la prossima domenica Eh sì Daniele Lara è un po' a riposo Resta un pochettino Riposa Lasciamola lì Francesco Piccardo Benvenuto in live Buongiorno Anzi buongiorno Buonanotte Buonasera Ben trovato Ben trovato Buon risveglio Ti decidi Non lo so È un modo Quale dei tango È un modo È un modo Di salutare È un modo Oh grazie a Dio Ti sei aggrappata Oh grazie Come si è messi E io come ci arrivo Lassù È un modo È un modo Salta salta Ah ok Ritorna qui Eh no Non ci arrivo ovviamente Non ci arrivo ovviamente Eh no Quindi devo rifarlo Prova prova Eh no Aspetta E come faccio Se Quello è chiuso L'acqua è abbassata Ah Ho capito Aspetta Ho capito Ho capito Ho sempre un casino Ma forse ho capito No Ho capito niente Non ci arriva E allora la domanda rimane Eh cacchio Non so come fare Cioè dobbiamo capire come Cioè dobbiamo capire come Vabbè dai Lo scopriremo solo la prossima volta Sì appunto appunto Salva salva Salvo nel 2 Perché nel 5 Non sia mai che possa servire salvataggio Bene ragazzi Bene dai C'è un po' di stanchezzina Ok Lascia così l'inquadratura Che sventola Dai ragazzi Molto bene Dai Siamo riusciti a Salta Che ti salti il gallo Esatto Dai siamo riusciti Un attimino Insomma Ad arrivare fino a questo punto Prosegueremo Tra due Tra due settimane Quindi tra due domeniche Con Lara Croft Per la undicesima Puntata Dove sicuramente Ci sarà anche il buon Graziano Ragazzi Buonanotte a tutti Ci vedremo domani Con la puntata Quanta serale Quanta serale Di special program Siamo arrivati al numero Io solo Quarantotto Quarantotto Morto che parla Benissimo Siamo alla quarantottesima puntata Dopo 38 episodi Che lo dicevano Si dava il filamento L'ha detto giusto L'ha detto giusto Quarantotto morto che parla Ragazzi domani Domani puntatona Alle ore 22 Di Con appunto Special program Quarantottesima puntata Avremo Tanti bei giochi Per il Commodore 64 Ragazzi Un bel like al video Condividete se potete Mi raccomando Iscrivetevi ai nostri canali Di Youtube Di Twitch E di Facebook Grazie a tutti Grazie ancora A chi è rimasto in linea Fino all'una Siete stati tantissimi E in gamba Un saluto E grazie Buonanotte a tutti ragazzi A presto Buonanottissima Grandissima Pucciosissima Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.